I miei familiari furono scioccati dalla diagnosi. Probabilmente più di me stesso. Mia moglie crede che morirò presto, ma qualunque sia la mia condizione, combatteremo fino alla fine. Generalmente si ha l'idea sbagliata che dopo la diagnosi non si possa fare più niente. È importante mettere in evidenza al paziente che è quasi semplice qualcosa che si può fare per il cancro del polmone. Dicevano che avevo dai 6 ai 12 mesi di vita. Questo è stato circa 12 anni fa. La diagnosi ha un fortissimo impatto sulla vita delle persone. Per un po' capovolge tutta la loro vita. E le persone parlano di com'era questa vita prima che avessero il cancro al polmone.